Passiamo alla politica. Giovanni Polognoli sceglie la famiglia alla politica. Il primo cittadino non ricandiderà e lancia Liliana Di Fede, attuale assessore alle politiche sociali, che punta a diventare la prima donna sindaco di Laives. La città di Laives, per la prima volta nella storia, potrebbe essere guidata da un sindaco donna. È lo scenario che si apre dopo il forfè del primo cittadino uscente, Giovanni Polognoli, che in una conferenza stampa alla sede provinciale del Partito Democratico ha annunciato che non intende partecipare alla corsa per le comunali del prossimo maggio, cedendo oneri ed onori all'assessora uscente Liliana Di Fede, chiamata a fine 2006 a sostituire il dimissionario dell'Izzotti al termine di una crisi di giunta del comune della bassa tesina. Oggi per me è la giornata più triste da quando faccio politica, ha detto Polognoli. Avevo incassato il consenso di tutti i partners politici per una mia ricandidatura, ma dopo cinque anni intensi durante i quali abbiamo cambiato volto alla città, che ora non è più il brutto anatroccolo rispetto a Bolzano, dovevo fare una scelta di vita. Io amo la mia città e secondo me un gesto d'amore è anche quello di avere la capacità di dire stop. Non riesco più a garantire la stessa energia e lo stesso tempo, perché ho una splendida famiglia, due bambine piccole, un lavoro che mi piace un sacco. Voglio continuare ad essere una persona normale, che fa del suo lavoro, il suo punto fermo, della sua famiglia il valore assoluto in cui proseguire nella sua strada. Polognoli comunque ha annunciato che non uscirà dalla politica, continuando a collaborare con il PD. Alla sua poltrona di sindaco punta dunque una donna, Liliana Di Fede, 47 anni, attuale primo dirigente della comunità comprensoriale Oltradige Bassa Tesina e dunque con importanti esperienze nel sociale e nei servizi alla comunità. Io ho due figli già grandi, ha detto, e dunque non ho il problema di Polognoli e spero proprio di poter continuare il suo lavoro in comune, visto che all'orizzonte ci sono ancora grandi sfide. L'Aivest deve andare avanti e diventare sempre di più una città dove si vive bene. Una città dove si vive bene significa una città dove i servizi funzionano, sono servizi di qualità, è una città però anche dove la comunità riesce a dare sostegno alle famiglie, ai singoli, alle persone e in questo senso vedo anche un forte ruolo del comune come promotore di iniziative, come catalizzatore di idee, come facilitatore di progetti e di idee.